Ciao a tutti, sono Magda Borsani, direttore marketing e comunicazione di Stabilo. Sono molto felice di collaborare con Luca Bete per il tour Non ci ferma nessuno, perché siamo sempre molto felici non solo di colorare i banchi di scuola e dell'università dei ragazzi, ma perché questo claim è veramente importante e scopri la fortuna che hai in te. E quindi invitiamo tutti i ragazzi a fermarci e a scrivere quello che è la loro fortuna, quello che li ha colpiti di questo tour. Quindi ragazzi, in bocca al lupo per la vostra vita e non ci ferma nessuno!